Qui nella Valle dei Templi, in questo luogo famoso in tutto il mondo per la sua bellezza, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ma quando parliamo di patrimonio culturale non ci riferiamo soltanto al patrimonio monumentale e archeologico. Nel concetto di patrimonio culturale rientra tutto ciò che suscita emozione, senso di appartenenza ad una comunità. Ora pensiamo ad esempio alla musica. La musica genera emozione, un'emozione che questa sera tutti noi vivremo grazie all'orchestra Erasmus, una comunità di 50 giovani studenti che hanno partecipato al programma Erasmus e che sono uniti dalla passione per la musica. Ma per fare un altro esempio possiamo pensare anche alla memoria. Anche la memoria suscita emozioni. Soprattutto quella memoria che rievoca il dolore, genera delle emozioni, delle emozioni forti che si trasformano in energia, un'energia positiva che ci aiuta ad andare avanti, che ci dà la forza di superare ostacoli che sembrano insormontabili. Questa è una serata dedicata alla cultura in tutte le sue forme, quindi anche alla legalità. Invito Flaminio Galli, il direttore dell'Agenzia nazionale Erasmus Indire, a raggiungermi per iniziare insieme questa serata. Buonasera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare il parco archeologico... Andava via la luce. Un buon inizio. Meraviglioso. Perfetto, grazie. Allora, sì, no, lascia. Desidero ringraziare il parco archeologico della Valle dei Templi, di Agrigento, la regione siciliana, i comuni di Agrigento e di Villa Franca Sicula, e tutte le autorità locali per averci dato il pieno sostegno e aver reso possibile l'evento di questa sera. Ringrazio particolarmente il Ministro Bussetti, che nonostante una giornata molto estenuante, è qui con noi. Grazie, Ministro. Lo ringrazio. Ecco qua. Anche il Ministro lo buca, scuraccio. Esprimo profonda gratitudine, inoltre, verso il pubblico e la città di Agrigento per aver aperto le porte al concerto dell'orchestra Erasmus. Il programma Erasmus Plus rappresenta al meglio lo spirito di unione e di comune appartenenza fra i popoli europei. Dal 1987 ad oggi, infatti, grazie all'Erasmus, oltre 9 milioni di cittadini hanno potuto viaggiare in tutta Europa per vivere un'esperienza di crescita formativa, culturale e soprattutto di cittadinanza attiva. Erasmus è una palestra straordinaria per allenare giorni alla tolleranza, all'apertura e soprattutto al superamento dei pregiudizi. I dati Erasmus raccontano di un interesse e di una partecipazione in costante crescita. L'Italia è nei primi posti dell'Europa, nei progetti di cooperazione tra le scuole e nella mobilità degli studenti universitari. Nel 2017, infatti, oltre 40 mila studenti e docenti italiani sono partiti per vivere un'esperienza di studio o di tirocinio. In questo scenario, la Sicilia si dimostra una regione a forte vocazione internazionale, con 1.800 studenti partiti per un'esperienza all'estero quest'anno. Stasera celebriamo, nel segno della musica, i valori promossi dal programma Erasmus. Valori come la cultura e l'educazione alla legalità, che sono i cardini su cui poggiare la costruzione di una cittadinanza europea comune. L'orchestra è composta da studenti Erasmus, dei conservatori e degli istituti di musica italiani. È una grande opportunità per valorizzare i giovani talenti, utilizzando il linguaggio universale della musica e diffondendo un forte messaggio di fratellanza tra i popoli. Un messaggio che questa sera raccoglie con piacere l'invito arrivato dal territorio siciliano a suonare per la legalità contro tutte le mafie. Prima di concludere voglio ringraziare i conservatori e gli istituti musicali italiani per la fondamentale collaborazione. Vi lascio ora gli interventi di altre autorità e vi auguro una piacevole serata all'insegna della musica. Grazie. Grazie direttore. Invito il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, per i saluti. Purtroppo scusate ma io non vedo nulla, quindi sono certo. Ecco il sindaco. Ringrazio, saluto il signor ministro al quale oggi Agrigento ha offerto questo bel tramonto e come le dicevo salutandolo Agrigento oltre che tramonti offre soprattutto tante belle albe. e siamo onoratissimi di ospitare questa bella iniziativa che è un'iniziativa che parla di Erasmus per quello che rappresenta Erasmus oramai nell'immaginario collettivo, è stato detto ottimamente, condivisione ma soprattutto in due parole grande avanzamento civile attraverso i giovani. sposarlo poi con questo grande messaggio rivolto alla legalità in un'area come quella di Agrigento che ha rappresentato qualche anno fa una sorta di grande manifesto di virata sul piano dell'avanzamento civile e della lotta alla mafia, dottor Guarnotta e dottoressa Falcone con quell'anatema contro la mafia gridato qui a gran voce a piano San Gregorio da Giovanni Paolo II. E Agrigento è terra, signor ministro, da 2600 anni, questo è il nostro compleanno nel 2020. per 2600 anni rappresenta sedimentazioni culturali, il suo centro storico è il racconto di tante sedimentazioni culturali, un po' una sorta di specimen di ciò che deve rappresentare un avamposto europeo nel Mediterraneo, un avamposto di cultura, un avamposto come è stato detto nell'intervento dell'esponente Erasmus di tolleranza, qui nella Valle dei Templi che è simbolo di bellezza uno dei tanti simboli di bellezza che questo paese, il nostro paese può schierare al mondo e se è vero come è stato detto che la bellezza salverà il mondo, questa sera questo concerto che è esso stesso simbolo di bellezza, in una città che offre bellezza vuole lasciare un piccolo, modesto forse messaggio, ma tanto significativo di bellezza che salva il mondo. Grazie. Grazie, grazie sindaco. Il sindaco ha ricordato una data fondamentale, era il 9 maggio del 1993 quando proprio a poche centinaia di metri da qua, Papa Giovanni Paolo II lanciò questo anatema contro la mafia nella Valle dei Templi e a questo proposito invito il padrone di casa, il presidente del parco della Valle dei Templi, Bernardo Campo. Signori e signori, autorità civili, autorità militari, signor ministro, benvenuti alla Valle dei Templi, in questo luogo che per sua bellezza ci invita a riflettere su ciò che è la nostra cultura, una cultura come diceva il sindaco che proviene da 2600 anni di storia, in un ente, in un organismo creato circa vent'anni fa e che ripreso anche dallo Stato come modello di gestione dei beni culturali, è un fiore all'occhiello per la regione siciliana. Tra le iniziative istitutive, tra ciò che è l'istituto di questo parco, anche la cultura delle giovani generazioni, alla legalità e al benessere dei cittadini e tutto ciò che riguarda il nostro mondo è importante. Noi facciamo tantissimi interventi e tantissime attività nei confronti dei ragazzi, della cultura, tra l'altro appunto, come dice la legge istitutiva, al fine di sostenere le attività legate alla cultura e favorire le attività scolastiche e per noi questo è importante, tra l'altro in questi anni, tramite grazie all'intuizione di una concittadina agrigentina, un'educatrice di molti presenti probabilmente, abbiamo istituito noi qua il Giardino dei Giusti, il Giardino dei Giusti che accoglie la memoria di tanti giusti, tra cui tante persone che hanno dato la vita per la legalità e per il rispetto alla legalità. Vi ringrazio di essere venuti e vi auguro un buon concerto a tutti, grazie. Grazie Presidente, il Presidente Campo ci ha ricordato che il parco della Valle dei Tempi non è soltanto archeologia ma è anche cultura nelle sue varie forme con la presenza del Giardino dei Giusti. Indire è un istituto che promuove l'innovazione didattica e quindi in questa occasione non potevano mancare i saluti dell'assessore all'istruzione Roberto Lagalla. L'assessore Lagalla forse non sa che indire si muove sulle idee di un siciliano, ho scoperto di Giuseppe Lombardo Radice che forse è stato il primo studente Erasmus, è partito dalla Sicilia per meriti, si laureò alla normale di Pisa e poi tornò in Sicilia dove fece tanta attività didattica e accademica praticamente in tutte le università dell'isola. Un altro dei primati non sempre noti di questa Sicilia, ad essere noti sono quasi sempre i primati negativi di questa regione ma ne abbiamo anche di straordinariamente positivi. A me tocca questa sera molto brevemente portare il saluto del governo regionale e del presidente, ringraziare la città di Agrigento e il suo sindaco per la ospitalità che riserva questa iniziativa e ringraziare l'Indire per le giornate di studio e di lavoro che ha voluto portare in Sicilia in questa occasione e in questa circostanza. Un particolare ringraziamento voglio esprimere al signor Ministro che oggi ha dedicato alla Sicilia e alla scuola siciliana un'intera giornata. È stata una giornata intensa, importante, ricca di significati ma anche di atti concreti che segnano la direzione e il verso di una collaborazione interistituzionale che congiuntamente guarda governo nazionale e governo regionale impegnati in una significativa e importante valorizzazione del sistema scolastico regionale. Alla Fondazione Falcone, oggi qui presente nel segno della memoria ma soprattutto dell'eterno presente della legalità va ovviamente il confermato sentimento di vicinanza dell'istituzione regionale. Credo che a proposito della serata di oggi che il sindaco ha ben spiegato essere in qualche modo sintetizzabile nel riferimento alla bellezza credo che meriti per spiegare il connubio tra la musica di questa straordinaria orchestra e il nostro messaggio quanto è scritto sul frontone del teatro massimo di Palermo. Vano delle scene il diletto se non miri a prepararla a venire. Ecco io credo che le arti abbiano il senso e il valore di un avvicinamento costante della donna e dell'uomo al senso della bellezza e siano al tempo stesso un invito alla riflessione e alla introspezione ma anche a un atteggiamento positivo nei confronti degli altri. D'altra parte reputo l'Erasmus l'unico vero grande segno di cittadinanza europea a livello di popolo. In un'Europa che è dominata dalla finanza e comunque fortemente dibattuta dalle dispute politiche e di governo l'Erasmus segna il grande primato della gioventù e costituisce una enorme speranza di futuro unitario per i paesi d'Europa. Personalmente ho avuto il piacere di collaborare con Indire e di interessarmi di Erasmus durante il periodo del mio mandato rettorale a Palermo contribuendo questa università oggi ad essere una di quelle più attive sul versante degli studenti outgoing e io mi auguro ulteriormente potenziata nel prossimo futuro sul versante degli studenti incoming. Ed è per questo che il governo regionale intende lavorare con i rettori delle università, con gli attuali rettori per incrementare il valore delle borse degli studenti incoming proprio per dare dimensione internazionale alla nostra rete accademica e al nostro sistema della conoscenza. A questo punto credo che sia opportuno far cessare le parole e ascoltare la musica perché la musica sicuramente riesce a coniugare la riflessione sulle parole che sono state dette ma invita probabilmente a sperare ancora di più nel futuro. Grazie. Grazie a lei Assessore. Allora potremmo iniziare proprio dalla valorizzazione in Sicilia della figura di Giuseppe Lombardo Radice. Come è emerso già più volte durante questa serata, arte e memoria stanno alla base della nostra crescita. Una persona che crede molto, ha sempre creduto molto alla memoria è Maria Falcone. Maria Falcone con l'intuizione che ebbe all'indomani dalle stragi del 92 di dar vita a una fondazione, alla fondazione Giovanni Falcone. La fondazione Giovanni Falcone. Buonasera professoressa. Del leggio non abbiamo bisogno. Allora guardi, facciamo di più. Vedo anche il microfono in mano così abbiamo anche una postura più naturale. Ci sediamo anche e chiacchieriamo un minuto. Abbiamo due minuti. Due minuti. Allora facciamo una cosa nuova. Dopo tanto tempo se l'aspettavo questi risultati. Di quali risultati parliamo? Quei risultati no. Ci sono tanti risultati e vorremmo sapere. Io sono molto propositivo per Natura, sono ottimista. E la mia percezione, anche in base a colloquio che ho avuto con tante persone, soprattutto con giovani che oggi sono servitori dello Stato, che svolgono la loro opera all'interno di apparati investigativi o anche all'interno della magistratura, che non erano nati ancora nel 92. Da questi ragazzi ho sentito dire, io ho conosciuto la fondazione Giovanni Falcone, ha fatto molto. Poco fa ne parlavo col dottor Guarnotta, proprio ieri dopo aver condiviso con Luca la scaletta di questa serata, sono passato da Piazza San Domenico, sono andato a fare visita a Giovanni Falcone e tra i tanti bigliettini sparsi sopra la lapide ce n'era uno che mi ha colpito in maniera particolare, era scritto in lingua spagnola, era scritto da una magistrata spagnola che ringraziava Giovanni per essere il suo faro dal cielo e che si dichiarava di essere guidata giornalmente nel suo lavoro pensando a lui e cercando di amministrare la giustizia nel miglior modo possibile. Questi sono quei risultati positivi che forse ancora molti non percepiscono, non percepiscono perché oggi i giovani tendono a comunicare in orizzontale, a noi adulti ci escludono, però qualcosa l'hanno percepito e sicuramente sono stati quei segnali che la fondazione Falcone in maniera capillare nel tempo ha seminato in tutte le scuole italiane. Vede dottore, quando Giovanni è morto io ero disperata, ero disperata come sorella ma anche come cittadina italiana perché temevo che tutto quello che lui assieme a tanti altri valorosi colleghi aveva fatto fosse dimenticata da un'Italia che spesso dimentica. Quindi il mio dolore era accresciuto nel dovermi dire tutto è finito, tutto è finito. Però, non so, forse per una caratteristica proprio della nostra educazione familiare mi sono anche detto che tutto non poteva finire perché la memoria di Giovanni era non soltanto la memoria di un magistrato che aveva tanto lavorato e aveva fatto tanto bene il suo lavoro, ma la memoria di Giovanni poteva servire ai giovani per credere in una Sicilia, in un'Italia diversa. Ecco che allora ho pensato che l'unica cosa che potevo fare era quello che Giovanni ci diceva sempre, cioè che la mafia non si combatte soltanto con la repressione, ma che la mafia è un fatto culturale e che per sconfiggerla era necessario andare fra i giovani, parlare ai giovani, creare quel salto culturale tale da permettere la creazione. Negli anni non era un processo, diceva Giovanni, semplice e nel breve periodo, ma era un processo per creare una società diversa, una società che dismettesse tutti quelli che sono i disvalori della mafiosità e in particolare l'omertà e l'indifferenza. Ecco, io ho voluto dire ai giovani che in questi anni, attraverso la Fondazione, a tutti quelli che insieme a me nel Consiglio della Fondazione ogni anno decidono cosa fare per quell'anno, ecco, io devo dire che ci ha aiutato tanto a portare questo messaggio, sicuramente la figura di Giovanni, che è una figura amata, è una figura che appunto anche oggi qua ha incontrato tante persone, tanti giovani che si sono scritti in legge e che vogliono fare i magistrati, che vedono in Giovanni il portatore di determinati valori che sono fondamentali per far sì che il nostro Stato, la nostra regione si riscatti da quel titolo infamante di mafia. Allora io, professore, la ringrazio a nome di tutti. Ve ne devo andare, l'ho capito. No, 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 e le dico una cosa, che bisogna continuare perché adesso inizia il bello, le nuove generazioni avranno sempre più bisogno della Fondazione Falcone e del ricordo della memoria. Sì, questo senz'altro, ma abbiamo bisogno e lo abbiamo anche dell'attenzione della politica perché devo dire che in tutti questi anni io non avrei fatto niente se ad esempio il Ministero della Pubblica Istruzione non mi avesse aiutato in tutti questi progetti. Non è una minaccia il Ministro, però mi raccomando. No, no, oggi ho assistito a una bellissima iniziativa, per esempio stamattina alla scuola Falcone, dove si è inaugurato un protocollo per cui permetterà ai ragazzini dello Zenne, un quartiere di sederate di Palermo, di poter avere il tempo pieno e di poter crescere meglio. Ok, allora continuiamo e ringraziamo la professoressa Falcone. Grazie, grazie di cuore. E continuiamo coltivando il ricordo, la memoria. Vorrei invitare, scusate, ma io non vedo assolutamente nulla, cercavo il dottor Guarnotta per invitarlo a salire sul pacco, a raggiungerci. Il dottor Guarnotta non credo che abbia bisogno di presentazioni. Allora, dottor Guarnotta, assolutamente sì, forse è più naturale. Allora, anche lei, dopo tanti anni, che bilancio possiamo tirare? Mi consenta prima, in tempi brevissimi, una digressione perché siamo in una terra che è stata bagnata dal sangue innocente di due colleghi, il Presidente di Sessione della Corte Appello di Palermo, Antoinio Saetta, e il collega Rosario Livatino, il giudice Ragazzino che sono stati barbaramente uccisi dalla mafia. A noi, parlando di memoria, va il nostro commosso pensiero e il nostro infinito ringraziamento per tutto quello che hanno fatto fino al sacrificio supremo della vita. Questo è doveroso, tra l'altro ricordiamo che proprio a poche centinaia di metri c'è uno dei giardini dei giusti, distribuiti in tutto il mondo, proprio per ricordare le vittime delle mafie. Dottor Guarnotta, so che molti magistrati, molti aspiranti magistrati si rivolgono a lei, lei chiedono consiglio. Poco fa abbiamo commentato insieme questo messaggio lasciato dalla sua collega spagnola sulla tomba di Giovanni Falcone. Che percezioni ha del nostro futuro? Cosa ci aspetta con le nuove generazioni? È una percezione positiva, indubbiamente. Tutti quei giovani colleghi che ho un modo di contattare, io sono in pensione ormai da tre anni e mezzo, mi sembrano molto impegnati da questo punto di vista. Io credo che rispetto ai tempi passati non sia cambiato neanche. Vedo che questi giovani hanno la stessa volontà di compiere il proprio dovere come l'abbiamo compiuto noi, almeno credo, ai nostri tempi e che soprattutto abbiano la consapevolezza, signori magistrati, che sopra di noi, di tutti noi, c'è solo la legge. E credo che il magistrato debba applicare la legge per intero e debba decidere non solo secondo legge, ma anche secondo la propria coscienza. Questo è quello che io dico sempre ai giovani che mi contattano per sapere un po' come svolgevamo la nostra attività allora, che ovviamente è molto diversa da quella che svolge adesso, perché tra l'altro adesso si svolge in maniera molto più tranquilla che non in quei tempi passati. Lei si occupa adesso della Fondazione Falcone, so che non è andato in pensione di fatto. No, sicuramente no. Colpa della professoressa Falcone che mi ha cooptato e mi ha costretto a lavorare ancora. Allora, che dire, io auguro alla Fondazione di continuare nella sua attività, perché come dicevo prima sono convinto che adesso, e ancora più importante di prima, continuare con questa attività capillare nelle scuole. E quindi unendo le forze della Fondazione Falcone, dell'Indire, sono certo che le nuove generazioni riusciranno a rimettere in moto la nostra bella, ma nello stesso tempo maledetta, isola. Ma questo è sicuro, perché dopo le stragi di 1992 nulla è più come prima. È stato un punto di non ritorno. Basta pensare che prima, nei processi di mafia, neppure i parenti delle vittime si costituivano parte civile. Ora tutto questo avviene in modo diverso. Ci sono tante associazioni che si costituiscono in processi di mafia. Questo è un segno dei tempi che sono cambiati, per fortuna. E ora mi scusi, ma vorrei, siccome è presente il ministro, il titolare del MIUR, vorrei ricordare al signor ministro che la scuola è importante. Bisogna dare alla scuola risorse materiali e umane e personali che merita. Perché per dirla con Piero Calamandrei, la scuola è quasi un organo istituzionale. La scuola è un organo vitale, che prepara le future generazioni, ed è importante che le risorse di cui ha bisogno non vengano lesinate. Perché è la scuola che preparerà le nostre future classi dirigenti, che diventeranno casta soltanto se chiudono in se stessi, se diventano famaliste ed ereditarie. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei, dottor Guarnotta. E chiaramente, ministro, l'appello del dottor Guarnotta è di tutti noi. Adesso passiamo alla musica, a quest'altro elemento fondamentale di cui abbiamo parlato tanto. e invito Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Erasmus Indire, a raggiungermi per introdurre l'orchestra Erasmus. Un'orchestra, come dicevo prima, composta da 50 studenti. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere così tanti, numerosi. Grazie, signor ministro, della sua presenza. Non voglio rubare il tempo alla musica, che è la cosa più importante. Solo una brevissima storia di come è nata l'orchestra. L'orchestra è nata allo scorso anno, a poco più di un anno, per le celebrazioni dei 30 anni di Erasmus. Il programma dell'Unione Europea che dal 1987 ad oggi ha mosso 9 milioni di persone. 9 milioni di persone che hanno studiato, si sono formate e sono cresciute in Europa. Di queste, più di un 10% sono italiani, studenti italiani, studenti delle università, ma anche delle scuole, docenti e studenti dell'alta formazione artistica e musicale, quindi dei nostri conservatori. Quindi l'idea di mettere insieme, di valorizzare gli studenti Erasmus dei nostri conservatori. Quest'ensemble presenta davvero i valori di Erasmus, perché la musica arriva, arriva subito, è un messaggio universale, parla alle anime, al cuore e quindi è la lingua che valorizza tutte le altre lingue e le culture come fa davvero il programma Erasmus. Di questo io ringrazio il mio direttore che ha parlato per primo, il consiglio di amministrazione che è presente in sala, perché continua a sostenere la vita di questa orchestra che si arricchisce e che ogni volta si rinnova perché gli studenti poi si laureano, vanno a suonare all'estero, quindi rispetto anche all'ultimo concerto che abbiamo fatto a maggio a Roma, ho visto già che metà dell'orchestra è nuova, perché ci sono molti musicisti che adesso hanno conseguito un diploma. Oltre a ciò, si arricchisce da un punto di vista internazionale, perché i cantanti che si esibiranno oggi sono dell'Opera di Hong Kong, quindi ringrazio questi giovani studenti dell'Opera di Hong Kong che oggi sono qui con noi, ma un altro cantante invece viene dall'Università del Costa Rica perché ha un accordo con un nostro conservatorio pugliese, quindi davvero una grande ricchezza questa orchestra. Quindi ringrazio tutti i miei colleghi delle altre agenzie nazionali che sono presenti in sala. Mi scuso, parliamo stasera solo italiano, ma poi l'Opera è in italiano, ma ovviamente, come dicevo, è universale. Dal Portogallo, da Cipro, dall'Irlanda, dalla Francia, quindi davvero stasera qui ad Agrigento un pubblico molto internazionale. Grazie a tutti. L'orchestra Erasmus che è diretta dal maestro Elio Orciolo. Grazie a voi le note di Rossini, di Donizetti, di Puccini. Grazie a tutti voi. Grazie. Allora, grazie. È un'orchestra composta da elementi che hanno un'età media di 20 anni, quindi largo ai giovani.